Un uomo è sano se anche l'ambiente in cui vive, gli animali con cui entra in contatto e il cibo che mangia sono sani. In una società ancora esposta ai rischi del cibo contaminato, la Puglia ha da tempo adottato un piano di controllo che abbraccia l'intera filiera agroalimentare. Un ciclo sistematico di analisi svolto da ARPA, Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente, e Istituto Zooprofilattico Sperimentale, in sinergia con i servizi veterinari e i dipartimenti di prevenzione delle ASL. Persone che lavorano ogni giorno con un solo obiettivo, garantire la salute pubblica. L'ultima relazione regionale sulla sicurezza alimentare e sanità animale promuove a pieni voti le produzioni pugliesi, non solo buone, ma anche sicure. Grazie all'efficienza di questo sistema di controllo, la Puglia si attesta a livello nazionale al primo posto per numero medio di fitofarmaci ricercati, e al secondo per numero di analisi trasmessi al Ministero. Ciao mamma, ciao, lavati subito le mani che è già pronto. Scegliere prodotti del territorio, la ricetta giusta per unire sapore e salute. No, non le robe, no. Se mangi tutto ti aiuto con i compiti. Ok. Filiera agroalimentare pugliese, sicuramente buona.